Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Questo video ragazzi è brevissimo perchè voglio soltanto di libri che sto creando un server di minecraft Quindi ho bisogno builder Se siete interessati e siete bravi a costruirli allora venite sul mio T-Speak L'IP in descrizione E niente ragazzi noi ci becchiamo su T-Speak Bella a tutti Grazie